Per noi, partner di Maiora Despar Centro Sud, la condivisione degli ideali è alla base di una partnership duratura e significativa. Per noi oggi lavorare con Maiora non è solo una collaborazione commerciale, ma si tratta di un rapporto di lavoro che si fonda su valori condivisi come l'attenzione per le persone piuttosto che l'impegno a modificare, a migliorare il contesto in cui viviamo. Quando Maiora ci ha proposto di partecipare a questa iniziativa abbiamo subito capito l'importanza di questo progetto e ritengo che sia una dimostrazione tangibile di quelli che sono i nostri valori legati al benessere e alla salute dei nostri clienti. Ovviamente quando i valori sono allineati è molto semplice dare vita ad iniziative come quella di oggi, che rafforzano anche la nostra partnership e ci fanno sentire parte di un progetto che va oltre quello che è il semplice business. Oggi creare un rapporto di fiducia con i clienti credo sia fondamentale, a prescindere se si tratta di una piccola, media o grande azienda. Credo fortemente che ogni realtà aziendale debba restituire qualcosa al territorio in cui opera per il sostegno che riceve ogni giorno, cercando di capire quelle che sono le esigenze delle persone e trovare modi per supportarle. Tra i nostri obiettivi c'è quello di creare un impatto positivo ogni giorno attraverso progetti locali, attraverso iniziative sociali, piuttosto che attenzione all'ambiente. Miriamo ad avere una clientela soddisfatta non solo per il basso assortimento che offriamo ma anche e soprattutto per la qualità e il controllo che garantiamo dei nostri prodotti e del nostro servizio. In fondo l'aspetto valoriale del brand Despar risiede proprio nella qualità dei prodotti e dei servizi e della scelta che offre il brand Despar. Ci sentiamo particolarmente responsabili delle persone che ci scelgono ogni giorno ed è per questo che iniziative come quella di oggi ci stanno particolarmente a cuore perché non si tratta semplicemente di un gesto di solidarietà ma vogliamo dare un contributo concreto per cercare di migliorare la vita e la salute delle persone del nostro territorio.